Ciao, sono Maura Gherau, fondatrice di CyberItalian.com e sono qui per presentarti i nostri programmi di coaching italiano. Questi sono dei programmi che io amo insegnare personalmente e li ho ideati apposta per te se ti interessa fare un percorso umanistico approfondito attraverso la lingua e la cultura italiana. Questo percorso umanistico ti permette di scoprire la tua persona italiana, di migliorare la tua conoscenza della lingua e della cultura italiana e di migliorare aspetti della qualità di vita. Ogni programma di coaching pone l'enfasi su aspetti diversi della vita. Tu scegli quello che ti sembra che risuoni meglio con te stesso o con te stessa in questo momento. Sarò felice di fare un percorso insieme a te con i programmi di coaching italiano e di invitarti a pranzo a Roma in uno dei miei ristoranti preferiti. Allora, ci vediamo qui a Roma? A presto e buona pratica! Ciao! Ciao!